I risultati che abbiamo ottenuto sono assolutamente rilevanti, forse addirittura sorprendenti, devo dire la verità. Abbiamo trattato tre pazienti molto gravi con una malattia grave che aveva risposto in maniera molto insoddisfacente alle terapie convenzionali che possiamo usare, diverse linee di terapia, e avevano anche sviluppato effetti collaterali consistenti per queste terapie che avevamo dovuto somministrare per la gravità di malattia. Le risposte sono state straordinariamente buone, ci hanno permesso di raggiungere una remissione duratura in due pazienti, oramai più di sei mesi, di remissione duratura senza alcuna terapia immunosoppressiva. I pazienti sono tornati ad una vita normale, questi risultati sono così incoraggianti che ci spingono a disegnare una sperimentazione clinica controllata che ci possa permettere di studiare l'effetto in pazienti con malattie autoimmuni gravi e che possono essere suscettibili all'effetto benefico di questi trattamenti.